Amici di Raiuno, buon poveriggio e benvenuti alle previsioni di traffico del fine settimana. Con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo il lungo periodo delle festività natalizie, in questa settimana i valori di traffico sono gradualmente tornati in linea delle medie del periodo. Sono previste code in questo fine settimana in direzione dei centri d'arte, città d'arte, centri commerciali e per i saldi. Tempi di percorrenza superiori alla norma nei tratti abruzzesi e marchigiani della 14 Bologna Taranto sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Benevento per la presenza di ristringimenti di carreggiata disposti dall'autorità giudiziaria. La circolazione è prevista in lieve aumento sabato e domenica sulla 4 e sulla 8 in direzione Milano per l'incontro di calcio inter-Atlanta e sulla 1 a Firenze per Fiorentina Spal. Tra domani e domenica il Modena Fiera ospita tre eventi che abbracciano diversi interessi dall'elettronica al fumetto al modellismo, Espo Elettronica, Cosmo Comics e Model, con le code possibili sulla 1 a Moda Nord per quanti sono diretti verso l'area espositiva. E questo il penultimo fine settimana nel quale il Golfo di Salerno viene illuminato con le creazioni artistiche di luci e colori e per l'alta affluenza attesa sono previsti i flussi di traffico in aumento sulla Napoli-Salerno in direzione Salerno. E prima di concludere vi ricordo che domenica per facilitare gli spostamenti sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 per i mezzi pesanti. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio e a voi tutti un piacevole fine settimana. Arrivederci.